Vi presento Fidenia. Fidenia è una piattaforma creata appositamente per la scuola, è simile a un social network per le interazioni basate sui like e commenti, sugli aggiornamenti di stato e permette l'invio di file, commenti e domande. Permette di collegarsi con studenti, colleghi, amici, gruppi. Importante è la creazione di un repository personale chiamato risorse personali in diversi formati e organizzato in cartelle. I TAG permettono di ricercare poi le risorse. Interessante è la creazione possibile di corsi ai quali si possono invitare studenti, docenti. C'è la possibilità di creare ebook in formato e-pub collegandosi ad un software esterno, quello di Leonetti. È possibile creare questionarii con queste base, anch'esso un software di terze parti, ha una funzione importante di calendario per organizzare le attività e gli impegni e la possibilità di partecipare, dà la possibilità di partecipare ai gruppi che sono disponibili e aperti. Si può accedere individualmente come docente e a questo accesso è free. Si può accedere come scuola, le scuole però devono prendere un account premium facendone la richiesta. È interessante il fatto di questo accesso come scuola perché è reso disponibile un registro anche elettronico. Come vi dicevo, bisogna registrarsi e una volta che si è fatta richiesta di un account, si può fare login, accedere, accedi. Questa è l'interfaccia di Fidenia, noi troviamo una barra superiore, in questa barra troviamo la prima icona che corrisponde alle notifiche. la seconda icona le richieste di collegamento, la terza icona i messaggi. Nella quarta abbiamo la possibilità di entrare negli istituti e cercare il tuo istituto. Abbiamo l'icona corsi e qui si può entrare in un corso mettendo il nome del corso, cercando tre corsi oppure creare un nuovo corso. Abbiamo i gruppi, posso cercare un gruppo a cui partecipare, vedete che già lui me ne propone alcuni oppure posso indicarlo nella casella di ricerca. Posso creare anche un gruppo, poi ho le risorse come vi dicevo interessante, l'accesso alle risorse pubbliche e alle risorse personali e poi ho anche la possibilità di accedere all'applicazione esterna di Google Drive. Quindi Google Drive è integrato in Fidenia. Dalla rotellina posso accedere al mio account personale, quindi al mio profilo personale, scaricare il manuale di Fidenia, cambiare la password ed uscire dall'applicazione. Queste sono le cose importanti e principali che posso vedere in Fidenia. Poi per quanto riguarda il mio account posso scrivere un messaggio, posso inviare un file, inviare un'immagine e fare una domanda. Interessante come vi dicevo è il fatto che io possa da gruppi creare un gruppo, esempio un gruppo classe. Metto il nome, esempio voglio creare la classe terza A e la descrizione della classe mi chiede e dirò filosofia. Posso caricare un'immagine, carica immagine per la classe. E posso mettere, vado a cercare sul mio computer proprio un'immagine. Vediamo se la trovo, una che mi possa indicare qualsiasi cosa, che mi possa rappresentare la classe. Guardate che la trovo, troverò una qualsiasi. Bene, metto un'immagine qualsiasi. Ecco, tanto per fare un esempio. Ecco, mi ha caricato l'immagine che dovrebbe essere comunque scelta in maniera tale da caratterizzare questa classe e il lavoro di questa classe. Poi ho la possibilità di scegliere se a questo gruppo sarà aperto e quindi tutti gli utenti lo possono vedere nell'interfaccia di Fidenia oppure chiuso, che gli utenti possono richiedere l'invito al gruppo privato, che tutti gli utenti possono essere invitati solo dall'amministratore. Ecco, se vogliamo fare una classe che sia dedicata al lavoro di classe, magari ci interessa farlo privato. Comunque, io l'ho messo chiuso, Crea. Ecco, mi ha creato il mio gruppo classe e vedete che ho la possibilità nel mio gruppo classe di avere innanzitutto un codice di accesso che posso dare per accedere a questa classe. Posso inviare un file, posso inviare un'immagine e fare anche una domanda, posso mandare pure un messaggio. Posso vedere i membri del gruppo, in questo caso non ho ancora degli alunni, non li ho ancora messi. Posso, da risorse, creare una cartella con delle risorse per la classe. Ad esempio, potrei creare la cartella Aristotele per rendere disponibili i materiali su Aristotele. E quindi potrei mettere risorse su Aristotele come descrizione. Salvo e come vedete mi compare la mia cartella di risorse su Aristotele. Per aggiungere dei file potrei aggiungere dei file dalle mie risorse personali, ad esempio le mie risorse personali. Adesso vediamo, avevo messo un file PDF, questo file PDF che è una presentazione di Aristotele, lo potrei condividere, ad esempio, condividere nei gruppi, ad esempio, il mio gruppo era la classe terza A e in Aristotele, nella cartella Aristotele condividi. Ok, e allora vedete che io mi trovo nella, mi troverò poi nella mia classe e questo, questo file che corrisponde a quello che ho caricato. Ora riandiamo nell'interfaccia di... Ah no, da qui posso comunque collegarmi a EPUB Editor, il software esterno, per creare ad esempio un ebook. Vedete che entro subito negli ebook, trovo quelli che ho creato io e poi con un nuovo ebook posso accedere all'editor e crearne uno di nuovo. Posso accedere a queste base per editare un questionario, con l'editor dei questionari, posso accedere al calendario per creare degli eventi. Ecco, queste sono le informazioni indispensabili e essenziali per poter lavorare con chi degna. Buon lavoro!